Ancora 21 positivi al coronavirus in Molise, Isernia, Castelpetroso, Toro, Campobasso, i centri più colpiti, terapia intensiva non più covid free al Cardarelli, ricoverato un uomo le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Gestione covid di Molise indaga la procura di Campobasso, è stata aperta un'inchiesta, gli inquirenti chiedono all'ASREM la copia di tutti i referti delle persone decedute da febbraio, sotto la lente di ingrandimento la gestione dei posti letto e della rianimazione. Sembrava fatta, invece tutto torna in discussione, nubi nere all'orizzonte per la cassa covid alla GAM, Tacchilei e Berchicci non trovano la quadra, l'assessore Marone prova a rimediare, i sindacati chiedono un incontro urgente. Palloncini, striscioni e tanta commozione a Termoli durante l'esequie di Sara, la sfortunata 17enne deceduta sabato sera sulla statale 16 a San Salvo Marina, l'ultimo saluto di amici, compagni di scuola e familiari nella cattedrale. Caffè e cocaina in un esercizio commerciale di Guglionesi spaccio alla luce del sole, polvere bianca venduta dietro al bancone, i carabinieri hanno arrestato il gestore del locale, un 52enne del posto, all'interno dell'attività anche Ashish e un bilancino di precisione. Infine lo sport il calcio, campobasso inarrestabile, Macudini esorta i suoi a migliorare in zona gol, basto girare di rivelazione d'inizio campionato, calcio a 5, Cusmo Lise e San Gennario si gode l'esordio vittorioso sul Pistoia. Eccoci, bentrovati, nuova edizione del Tg di Teleregione, come avete sentito dai titoli ci occuperemo per lo più dell'emergenza coronavirus, c'è un'inchiesta aperta dalla procura di Campobasso, ma prima gli ultimi dati arrivati nel pomeriggio relativi ai nuovi contagi, ne sono 21 in Molise, i centri più colpiti ancora Isernia, Castelpetroso e poi Campobasso, la terapia intensiva del Cardarelli non è più covid free, un paziente di malattie infettive infatti si è aggravato, è stato necessario intubarlo, ma sentiamo tutti i dettagli. Terapia intensiva del Cardarelli che torna ad essere occupata, un paziente che era già ricoverato si è aggravato ed è stato necessario intubarlo, i contagi ancora in crescita più 21, questa la situazione attuale in Molise dell'emergenza coronavirus, Isernia è la città più colpita, ora conta 81 casi, segue Castelpetroso con 66, poi Campobasso con 32, Venafro 26. Nell'arco di una settimana l'aumento della curva è stato tale che il virus ora è presente nella metà dei comuni della regione. L'incremento dei casi a livello nazionale in queste ore parla di 10.874 su 144.000 tamponi processati. Nel dettaglio dagli ultimi 764 test sono stati rilevati altri 4 contagi a Isernia e 4 anche a Campobasso, 3 a Castelpetroso e 3 a Toro, 1 a Boiano, 1 a Ferrazzano, 1 a Forli del Sannio, 1 a Macchia di Isernia, 1 anche a Pettoranello, relativi tutti a cluster noti. Infine un caso a Casal Ciprano per il contatto con un positivo e 1 a Riccia e qui il tampone era stato richiesto dal medico di base. C'è anche un nuovo ricovero in malattie infettive, si tratta di una persona di Termoli e ora nel centro Covid del Molise ci sono complessivamente 10 pazienti. La buona notizia è relativa ai guariti, sono 13, due di Termoli mentre gli altri sono di Campomarino, Napoli, Larino, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Tavenna, Portocannone, Guglionesi e Montenero di Bisaccia. Termoli e Castelpetroso riabbracciano rispettivamente due cittadini dimessi dal Cardarelli in queste ore. Gli attualmente positivi in Molise sono 432 e in quarantena ci sono 620 persone. Gestione dei posti letto e della rianimazione Covid in Molise. Come si diceva c'è un'inchiesta della Procura, gli inquirenti hanno chiesto all'ASREM tutti i referti delle persone decedute dallo scorso mese di febbraio a ora. La Procura di Campobasso ha richiesto all'azienda sanitaria regionale del Molise la copia di tutti i referti, in sostanza la documentazione clinica, di tutti i decessi avvenuti a causa del Covid-19 dal mese di febbraio sino all'8 ottobre. È il primo passo dell'inchiesta aperta dal Procuratore della Repubblica Nicola D'Angelo, un fascicolo corposo che punta a capire come l'ASREM abbia coordinato l'emergenza sanitaria dopo l'esplosione della pandemia. Sotto la lente di ingrandimento della Procura la gestione dei posti letto nei presidi ospedalieri e la gestione dei reparti di terapia intensiva degli ospedali molisani destinati fino a pochi giorni fa su tutti i cardarelli di Campobasso solo ai casi Covid. Gli inquirenti inoltre sarebbero interessati a conoscere quante persone decedute in casa avevano chiesto il ricovero e gli sia stato rifiutato per l'indisponibilità di posti letto negli ospedali. Altro aspetto centrale per la Procura è sapere quanti ricoveri siano stati rifiutati per mancanza di posti letto in terapia intensiva e per quanti non sia stato previsto il trasferimento in altre strutture, anche private. Insomma sul tavolo c'è la gestione dell'emergenza Covid negli ospedali, i posti letto, le rianimazioni. A far scattare l'indagine il decesso di un paziente ricoverato al cardarelli ma impossibilitato ad usufruire della terapia intensiva perché all'epoca di fatti destinata solo ai casi Covid. Sull'argomento bocche cucite sia sul fronte degli inquirenti che da parte dell'ASREM. Venafro e Pozzilli saranno ristorati con quasi 500 mila euro dopo l'istituzione della zona rossa nello scorso mese di marzo. La soddisfazione dei sindaci Ricci e Passarelli nel prossimo servizio di Nicola De Santis. I ministeri dell'interno e dell'economia hanno stanziato i fondi per quei centri che durante l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 sono stati dichiarati zona rossa. E così al comune di Venafro andranno quasi 400 mila euro, mentre a quello di Pozzilli sono stati destinati oltre 80 mila euro. Dunque, a distanza di quasi sette mesi dal provvedimento che di fatto dichiarò una sorta di coprifuoco nei due centri in provincia di Sernia, arriva un ristoro sostanziale dopo le vicissitudini patite dalla popolazione. Soddisfatto il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ognuno di noi ricorda l'ansia, la preoccupazione, la paura di quei momenti, le difficoltà vissute in quelle settimane, ma anche la grande serietà e responsabilità con cui la nostra comunità ha saputo affrontare quella difficile fase ha dichiarato Ricci. Oggi finalmente ci viene riconosciuto tutto questo e avviene in giorni in cui abbiamo bisogno ancora una volta di forza e coraggio, ma soprattutto di serietà e responsabilità per affrontare questo nuovo difficile momento dell'emergenza in corso. Sapremo anche adesso essere una grande comunità. Anche il primo cittadino di Pozzilli ha espresso la propria soddisfazione. Era il 21 marzo scorso, ha ricordato il sindaco Stefania Passarelli, quando il presidente della regione Donato Toma dichiarava il comune di Pozzilli zona rossa, anche se ancora oggi non so perché. Il testo del provvedimento recitava sussiste il pericolo che il contagio abbia potuto interessare un elevato numero della popolazione presente sul territorio. E per fortuna non è stato così. Giorni di paura, la prima sensazione fu quella di totale incredulità. Ora però a distanza di sette mesi, ha concluso la Passarelli, giustizia è stata fatta. Ed ora veniamo a un'iniziativa dedicata alla prevenzione che si svolgerà il prossimo 28 ottobre ad Isernia, in piazza della Repubblica, quindi davanti alla stazione, su iniziativa di Isernia Soccorso e della Croce Azzurra Molisana. Dalle ore 9 alle 13 del prossimo 28 ottobre, come detto, i cittadini che ne faranno richiesta potranno sottoporsi a test sierologico oppure al tampone nasofaringeo rapido con la risposta dopo 15 minuti. Per prenotarsi occorre contattare Rosaria Giangiobbe al numero 335 65 72 234. Quindi il prossimo 28 ottobre è una giornata per la prevenzione con la possibilità per molti cittadini di sottoporsi ai test rapidi. Parliamo di lavoro. Sembrava fatta, invece si addensano nubi nere all'orizzonte per i lavoratori della GAM perché i vertici della struttura Tacchilei e Berchicci non trovano la quadra sulla cassa Covid. L'assessore Marone ha garantito un impegno per trovare una soluzione. Ci potrebbe essere un incontro a breve. Intanto sentiamo il servizio. All'improvviso nubi nere all'orizzonte. Sembrava tutto fatto per la cassa Covid alla GAM. Invece dopo varie interlocuzioni con l'iquidatore della Solagrital e l'autorità di vigilanza insediata al Mise, l'amministratore della società, Berchicci, ha messo nero su bianco e ha avvertito i sindacati che non è nelle condizioni di chiedere le nove settimane di ammortizzatori previsti dalla normativa per l'emergenza sanitaria in corso. Per farlo dovrebbe rinnovare per un altro anno il fitto di ramo d'azienda con la Solagrital, cooperativa che aveva in carico i dipendenti ai tempi dell'arena. Ma la copertura della cassa Covid, se concessa, arriverebbe solo fino a gennaio. Certo, l'obiettivo è nel frattempo lavorare al rinnovo della cassa straordinaria per un altro anno, ma serve il rifinanziamento dell'area di crisi complessa e un imprenditore che dichiara il suo interesse a rilanciare la filiera, la cosiddetta continuità dunque. Troppo aleatorio il quadro perché Gamma possa impegnare risorse economiche che non ha. La nota di Berchicci, un fulminaccio sereno per la narrazione che fin qui la Regione aveva dato ai fatti, ha riacceso gli animi e le polemiche. Ed effettivamente i sindacati hanno richiesto un incontro urgente al Presidente della Regione, nonché all'assessore Marone, per capire il futuro della vertenza, perché c'è stata una comunicazione che è arrivata proprio in mattinata dall'amministratore unico della Gamma, come si diceva, e dopo le numerose interlocuzioni formali e le rassicurazioni arrivate non sembra che ci sia questa soluzione. Quindi la richiesta di un incontro urgente è stata inoltrata alla Regione da parte dei vertici dei sindacati, i tre sindacati principali, e quindi staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Ed ora ci occupiamo di un momento molto triste, della grande commozione nel giorno delle esequie di Sara, la ragazza di Termoli che ha perso la vita a soli 17 anni e oggi ci sono stati i funerali in cattedrale, i suoi colleghi, i suoi compagni di scuola dell'Istituto Nautico hanno letteralmente tappezzato la scuola con degli striscioni in suo onore, sei un angelo tra gli angeli, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Grande momento di vicinanza alla famiglia nel giorno, nel momento delle esequie, della cerimonia funebre. Questa giovane ragazza è stata stroncata da un incidente stradale che è avvenuto sabato sera sulla stradale 16 all'altezza della rotatoria di San Salvo Marina, si trovava sul sedile posteriore di una panda rossa alla cui guida c'era un ragazzo di 18 anni e l'utilitaria si è schiantata contro una ringhiera di metallo per lei, non c'è stato nulla da fare, gli altri ragazzi che erano a bordo, il conducente e altre due ragazze di 18 anni sono rimasti feriti, il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale San Pio di Basto, ferite lievi per le altre due giovani. Una vita spezzata improvvisamente e troppo presto quella di Sara, amata e ben voluta da tutti. Per la cronaca sempre caffè e cocaina è un esercizio commerciale di guglionesi, spaccio letteralmente alla luce del sole. Cocaina venduta dietro al bancone e così i carabinieri hanno arrestato il gestore del locale. Si tratta di un 52enne del posto e all'interno del locale anche Ascish e un bilancino di precisione. Andrea Vertolo. Accontentare le richieste dei clienti. Questa è la prima regola per i ristoratori, ma c'è chi esagera ed esaurisce anche i desideri illeciti. E così un bar di guglionesi, oltre a tazzine di caffè, cornetti e aperitivi, vendeva anche dosi di cocaina. La scoperta da parte dei carabinieri di Termoli ha messo la parola fine a questo traffico di stupefacenti che da tempo si svolgeva all'interno del locale. Scattata la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato un discreto quantitativo di polvere bianca, oltre che a diversi grammi di Ascish e un bilancino di precisione. Il gestore del bar, un 52enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti, al termine dei quali è stato tratto in arresto. Per lui è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto proseguono le azioni di contrasto allo spaccio di droga da parte dei carabinieri, volte alla repressione di ciò che viene considerato il mercato di morte. Preoccupa in questo senso il dato che vede il Molise tra le regioni con un alto tasso di consumatori di sostanze stupefacenti. Oltre il 10% della popolazione fa uso di Ascish o cocaina, come affermato dall'osservatorio antimafia. Operazioni come quella svolta dai militari nel centro-basso molisano saranno utili a tracciare anche la provenienza della droga e la rete di contatti che ha permesso questo bizzarro, quanto preoccupante mercato di cocaina svolto alla luce del sole. Ed ora vi mostriamo in anteprima il cantiere dell'area stazione di Sernia. Entro un mese i lavori saranno consegnati al comune di Sernia per l'inaugurazione. E questo sarà il vero parco verde della città. 6.000 metri quadri di superficie verde, oltre 120 alberi piantati, campi polivalenti per la pratica dell'attività sportiva ed ancora strutture a disposizione delle varie associazioni. Una zona interamente dedicata alla riflessione per le letture. Il parco della stazione di Sernia, progetto voluto dall'amministrazione Brasiello e proseguito sotto l'egida della giunta da Pollonio, sarà il polmone verde della città. Uno spazio dedicato principalmente alle famiglie, ma più in generale a tutti coloro che vogliano vivere momenti di relax all'aria aperta senza allontanarsi dal centro cittadino. Entro 30 giorni la ditta dovrebbe concludere i lavori, salvo complicazioni legate alle condizioni meteorologiche. Stiamo quasi per terminare, diciamo, a giorni alla consegna del parco. Abbiamo apportato delle modifiche che riguardano soprattutto alcuni campetti realizzati qui all'interno del parco, due campetti, uno da tennis, uno da pallacanestro e pallavolo. Diciamo che il parco si dividerà in due zone, una zona più di relax dove sarà possibile leggere anche dei libri, diciamo una zona silenziosa, per poi arrivare a una zona dove ci saranno parecchie attività che riguardano attività sportive, già detto, campetti, più ci sarà un parco dedicato allo skateboard. Diciamo che sarà un bellissimo parco dove poter passeggiare, essendo lungo i 500, quasi 550 metri, e, diciamo, passare del tempo con i propri figli, perché ci sarà anche un'area dedicata ai più piccoli, con la realizzazione di un'area dove ci saranno scivoli, altalene, e dove i genitori in tranquillità possono, diciamo, lasciare i propri figli, e anche perché è un parco videosorvegliato, diciamo, sarà un parco sicuro, dove sarà possibile accedere anche a internet gratuitamente. Diciamo, un bellissimo parco all'interno della nostra città. Autobus stracolmi di studenti a Campobasso, l'assessore comunale ai trasporti Simone Cretella replica all'esponente della Lega Alberto Tramontano, servirebbe a raddoppiare le corse, ha detto, ma non ci sono le risorse. Sentiamo Pierluigi Boragine. Autobus stracolmi di studenti al terminal di Campobasso. Nei giorni scorsi la denuncia del capoluogo della Lega Alberto Tramontano, che ha registrato le immagini che state vedendo. La replica del comune capoluogo in una nota stampa, l'assessore alla mobilità Simone Cretella, ha precisato che in attesa di diversi provvedimenti normativi, circa le percentuali di capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, l'amministrazione comunale di Campobasso non può che attenersi alle disposizioni in vigore. Poi ha spiegato che i controlli sui mezzi di trasporto vengono effettuati dalla stessa azienda che gestisce il servizio ed in più occasioni è già successo che molti passeggeri sono stati invitati a scendere dai mezzi perché era stato superato il limite. Ma per Cretella il vero problema è che considerando i posti in piedi, l'80% della capienza contempla un numero di passeggeri comunque molto alto, soglia, bene ribadirlo, stabilita dal governo. E allora viene da chiedersi se esiste la soluzione al problema per evitare il rischio assembramento e la diffusione del virus. Cretella auspica un raddoppio delle corse, quindi dei mezzi e del personale, ma per fare ciò, spiega, le amministrazioni dovrebbero poter contare sulla certezza delle coperture finanziarie dedicate al trasporto che al momento non esistono. Ed ora parliamo dell'Unimol. Gli studenti scelgono la didattica in presenza o a distanza senza la prenotazione. È possibile immatricolarsi fino alla fine del mese. Sul futuro il rettore brunese che è intervenuto ieri sera durante la trasmissione Fuoco Incrociato ha detto non ci spaventa tornare solamente alle elezioni online. Ascoltiamolo. È chiaro che stiamo assistendo in Italia in questo momento a un'evoluzione in senso peggiorativo dell'andamento dell'epidemia. E questo ovviamente deve farci porre delle domande. Il provvedimento del governo di domenica sera di fatto non limite in alcun modo lo svolgimento delle attività didattiche all'interno dell'Ateneo. Mi pare la scadenza sia il 13 novembre. Però voglio dire che noi osserviamo con molta attenzione quello che è l'andamento epidemiologico del Covid-19 perché ci rendiamo conto che probabilmente potremmo essere costretti a dei provvedimenti più anticipati o di evoluzione diversa. Uno dei ricordi positivi che ci portiamo della terribile esperienza dei mesi della scorsa primavera è stata proprio che nella parte online la didattica della nostra università ha funzionato molto bene. Quindi sicuramente non ci spaventa dover ricorrere a continuare la parte didattica di questo semestre online. Ci dispiace, direi, piuttosto come Ateneo. Nel senso che tutti quanti puntiamo alla vera università che è quella in presenza, con lo scambio di opinioni, di pareri, di idee con gli studenti, tra gli studenti, con i docenti e tra i docenti. E speriamo di poterlo fare fin tanto che questo sarà possibile in sicurezza. Mi rendo conto, naturalmente tutti in Ateneo ci rendiamo conto, di un momento di grande precarietà e di grande difficoltà del Paese. sapremo adattarci sicuramente a eventuali difficoltà che dovessero accadere nell'ambito dello svolgimento dei corsi. Quindi io direi che non è il problema di andare online che ci fa paura dal punto di vista dell'attività dell'Ateneo. È piuttosto la consapevolezza di non poter adempiere completamente la nostra missione come università costretta, in questo caso, è proprio il caso di dirlo, da cause di forza maggiore. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Siamo le temperature comprese tra i 17 e i 20 gradi, Venafro minima 8, massima 18 gradi. Ed ora c'è una breve pausa, ma restate con noi perché torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Ed eccoci ritrovati insieme per parlare di sport. Partiamo dal calcio di Serie D e dal campo basso. Tre vittorie, un pareggio e ancora testa della classifica e difesa di ferro. L'allenatore dei Rosso Blu, Mirko Cudini, elogia la squadra. Lo ha intervistato per noi dopo la partita col Montegiorgio. Franco Presutti, ascoltiamolo. Dobbiamo essere più bravi nel girar palla e essere più verticali negli ultimi 20 metri. Questo sì. A volte ci compiaciamo un po' sotto questo aspetto e dobbiamo essere più cattivi, più cinici. Perché poi anche il secondo tempo è passata una palla dentro l'aria e non siamo stati bravi ad arrivare con Giorgio, Tengoran e con Di Domenico Antonio. Queste secondo me sono situazioni dove dobbiamo portare a casa il massimo. Perché poi arriveranno momenti dove ce ne capiterà una perché non sempre riusciremo a creare sette occasioni da golle. Quindi ci auguriamo tutti. Se non sbaglio questo è il 22esimo risultato utile consecutivo sommando anche la striscia della stagione precedente. quindi la sua squadra ha proseguito nel ottimo momento stoppato poi purtroppo dal lockdown. Volendo fare una battuta, teme più gli avversari o il virus? Visto che si paventa, diciamo, sempre dipende dalla curva dell'epidemia si potrebbe paventare un altro stop. Quindi sarebbe davvero un peccato, credo. Credo che sono due avversari, due situazioni molto importanti da considerare. In primis il virus ci auguriamo tutti che possa essere contenuto dentro un certo limite per poter continuare noi come altri sport e via dicendo. Quindi su questo bisogna fare massima attenzione. Anche noi nel nostro piccolo, tra virgolette, cerchiamo di fare il massimo con le giuste precauzioni. Però stando in Molise credo che sia una regione, non dico nuova, si felice. Sotto questo aspetto no, perché poi i contagi li sono. Però riusciamo a vivere un po' più tranquillamente questa problematica. Gli avversari sono sempre da temere. Perché poi, come dicevo prima, se commettiamo questo errore di essere superficiali in questo non possiamo pagare pegno, quindi su questo no. Per quanto riguarda invece il ventiduesimo risultato, due settimane fa quando abbiamo giocato in casa con l'Agnonese era una coincidenza di ripresa, di fine ripresa. Quindi poteva essere una coincidenza positiva perché avevamo finito con 4-0. Questo invece poteva essere, sotto certi aspetti, nell'altro rovescio della medaglia. Venivamo dalla sconfitta in casa dell'anno scorso. A distanza di un anno ci ritrovavamo lo stesso avversario. Quindi poteva essere un punto dove potevamo cadere. Invece devo dire che la squadra si è comportata bene. Ero molto preoccupato di questa gara perché le qualità degli avversari, come ho detto, potevano metterci anche in difficoltà. Invece non gli abbiamo mai dato la possibilità di questo, ho dato merito ai ragazzi. È un anno, è vero che non perdiamo. Però alla fine siamo sempre qua e non abbiamo vinto nulla. Quindi dobbiamo proseguire su questa strada e quindi però di questo ne siamo molto contenti. E finora sicuramente la sorpresa del Girone F della Serie D è il Basto Girardi che ha ottenuto in questo primo scorcio di campionato due vittorie e un pareggio in queste prime quattro giornate. Soddisfatto il tecnico Luca Prosperi. Schiappoo, alzi la mano che avrebbe scommesso su un inizio così forte del Vasto Girardi. Probabilmente in pochi, anzi forse solo il presidente Andrea Di Lucente che ha puntato con decisione sull'abbattimento dei costi e sulla costruzione di una squadra composta da tanti giovani e calciatori in cerca di riscatto. Tanto di cappello anche ai dirigenti Giorgio Marinucci Palermo che ha scelto gli interpreti e Antonio Crudele, insostituibile elemento di congiunzione tra società e staff tecnico. I numeri spiegano più di ogni parola. Quarto posto in classifica, due vittorie meritate, una sconfitta immeritata e un pareggio quasi una vittoria sfumata nei minuti di recupero. Sei gol fatti, quattro subiti. Ancora un gioco efficace, bello da vedere, dinamico e una squadra pronta a vendere cara la pelle contro qualunque avversario. Dopo il successo sull'Arieti è raggiante il tecnico Luca Prosperi. Loro comunque per fare questo tipo di partita molto difensiva, molto aggressiva, non speso tanto. Noi abbiamo continuato a giocare come avremmo voluto fare il primo tempo. Loro non ce l'hanno permesso. Credo che abbia ottenuto sempre in mano la partita. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima gara e un ottimo risultato contro una squadra molto organizzata. Una squadra organizzata con un allenatore, secondo me, bravo, preparato, che ci ha preparato la partita sopra. Però credo che noi abbiamo meritato la vittoria, soprattutto per quello fatto nel secondo tempo. Diciamo che abbiamo spinto parecchio, abbiamo creato tanto, tantissime palle inattive. Bene, secondo me è bene, molto bene. Ed ora il calcio a cinque. C'è stato un esordio vittorioso in casa per il CLN Cus Molise, che sabato ha battuto il Pistoia. Dopo il match, le impressioni del tecnico Marco Sanginario, che parla anche dell'attuale situazione della pandemia, degli accorgimenti da tenere. Quindi il suo è anche un appello all'entourage di tutte le squadre. Ascoltiamolo. Marco, più arrabbiato per l'episodio relativo all'espulsione di Mateus, che per la gara, comunque, complimenti, una bellissima vittoria. Partita equilibrata nel primo tempo, poi avete preso il largo. Sì, in realtà hai ragione. Sono molto più arrabbiato per il doppio giallo a barichello che per contendo per la vittoria di oggi. Non mi piace parlare degli albitri, non lo faccio veramente mai. Poi figuriamoci dopo una vittoria, però onestamente alcuni giocatori vanno anche tutelati in qualche modo. È stato bersagliato in campo tutta la partita. Alla fine è stato anche cacciato con due gialli molto discutibili, secondo me proprio inventato. Se qualcuno mi smendisce sul secondo giallo, sono pronto a stracciare il tesserino d'allenatore. Giornata condizionata dal Covid, molte partite rinviate, insomma, cosa ci aspetta secondo te? Beh, questa è una problematica un po' più grossa e un po' più seria rispetto alla munizione e l'espulsione di barichello. Io credo che bisognerà fare attenzione e che se vogliamo realmente continuare il campionato ci vuole buon senso da parte di tutti, veramente da parte di tutti, avversari, squadra, pubblico. Ci vuole un'organizzazione solida che ci consenta di tutelare dirigenti, giocatori e tutto l'entourage che gira intorno al futsal. Tornando alla gara, cosa non ti è piaciuto e di cosa invece sei rimasto soddisfatto, Marco? Allora, non mi è piaciuto il primo tempo, partiti in maniera veramente presuntuosa. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo parlato con i ragazzi, gli ho chiesto il perché giocassimo in maniera presuntuosa, visto che davanti avevamo gente come Bebetinio, come Galindo, come Berti e come Checo, gente che ha calcato campi anche più importanti della 2 e non c'era alcun motivo per giocare in maniera presuntuosa. Lo hanno capito, hanno fatto una buona fase difensiva a livello tattico e cambiato tanto tra il primo e il secondo tempo e abbiamo portato a casa una vittoria importante per il nostro campionato con una menzione in più a Mattia Triglia, un ragazzo del 2000 che oggi credo ha dimostrato di poter essere tra i protagonisti di questa 2. Mi hai anticipato su Mattia, determinante anche Diego, soprattutto nel primo tempo e in alcuni episodi, ora Giovinazzo. Ora Giovinazzo su un gambo ostico, veramente ostico, complicato per tanti motivi. Abbiamo una settimana di tempo per preparare questa partita. La speranza non è tanto quella di prepararla al meglio ma è quella di giocarla perché con questa emergenza sanitaria è probabile che succeda un po' di tutto. Quindi la speranza è quella di allenarsi per poter giocare. E sempre per il calcio a 5 parliamo di Serie B. È andato alla Chaminade Campobasso il primo derby stagionale con lo Sporting Venafro. 7 a 4 per i Campobassani. Vediamo il servizio. La Chaminade c'entra il derby del Palapete Montana di Venafro in casa dello Sporting col punteggio di 7 a 4. Gara sempre in controllo per i Campobassani che chiudono il primo tempo sul 3 a 1 in proprio favore. Una doppietta di Cadeo indirizza la Contese inizialmente. Poi Corsetti prova a riavvicinare il team di Di Padua. Pego fallisce un tiro libero. Prima che vai non realizzi la rite del 3 a 1 ospite. Diez tenta di riavvicinare Venafrani nel vio di ripresa. Ma Cioccio e Ferrante portano gli ospiti sul più 3 del 5 a 2. Santo Paolo realizza il 5 a 3. Ma Poppa Lardi doppia nuovamente i padroni di casa. E una serie di emozioni senza sosta. E Ferrante a siglare il 7 a 3. Prima che a 43 secondi dal suono della sirena. Fetta non sigli il tiro libero e il secondo di giornata per i suoi. Con cui si chiude la contesa. Rimandando le due squadre alla seconda giornata di un girone. Quello GD di Serie B. Che ha perso in corso un altro competitor. Il futsal bisceglie. Portando così a 12 il numero dei team al via nella competizione. E con il calcio a 5 si chiude l'edizione del nostro TG. Vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri contributi. E anche le edizioni delle news. Semplicemente collegandovi alla nostra pagina Facebook. Oppure al sito teleregionemolise.it Grazie per essere stati in nostra compagnia. E arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti